Dopo l'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito russo nel febbraio dello scorso anno, oltre 460.000 rifugiati sono stati registrati nella Repubblica Ceca. Bisogna prendersi cura soprattutto di donne e bambini. Oggi sono circa 300.000 e i cechi li stanno accogliendo. La maggior parte di loro vive ancora in ostelio, nei campus universitari, come qui nel campus dell'Università di Praga. Vivono in stanze da due o tre persone, utilizzano una cucina comune e strutture sociali. Lyudmila si occupa di bambini dai 3 ai 12 anni dopo che sono usciti dalla scuola cieca. L'obiettivo è che i bambini mantengano la loro lingua madre, la loro cultura, i loro costumi e che si integrino meglio nella nuova società. Questo è uno dei problemi riscontrati dagli operatori di People in Need che forniscono servizi ai rifugiati. Tutti i rifugiati vivono in famiglie cieche come Nathalie e i suoi figli Maxime Nazar che hanno appena ricevuto il diploma. Si stanno divertendo nella scuola cieca e stanno imparando bene la lingua. Non c'è molto grande, ma cosi, calzzi, calzzi, calzzi e calzzi per noi. Per qualche tempo è abbastanza buona. Quindi ci siamo cominciati qui, è l'ultima cosa. Mi piace fare 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 fare. Anna aiuta gli Ukraini come volontari fin dall'inizio della guerra. Ha offerto a Nathalie un posto dove vivere e sono diventate amiche. I'm very thankful to the Ukrainians that they really opened up our hearts, made us be the best versions of ourselves by being accommodating and helpful. This is the first wave of refugees that the Czech society really helped.